Durante la degenza dei vostri neonati presso il nostro punto nascita eseguiremo quattro screening che sono un prezioso strumento per cogliere precocemente alcune patologie rare che non dobbiamo dimenticare. Il primo di cui voglio parlarvi è lo screening delle malattie metaboliche che viene eseguito a circa due giorni di vita mediante un piccolo prelievo di poche gocce di sangue. Questo ci consente di escludere alcuni deficit del metabolismo degli zuccheri, dei grassi e delle proteine ed altre patologie come ad esempio l'ipotiriodismo e la fibrosi cistica. Un secondo importante screening che eseguiamo è quello delle otto emissioni che ci consente di escludere l'ipoacusia congenita. Terzo screening è la cosiddetta ricerca del riflesso rosso che ci consente di escludere alcune patologie oculari in particolare la cataratta congenita. Quarto ed ultimo screening è lo screening di alcune cardiopatie che viene fatto mediante la misurazione della saturazione arteriosa dell'ossigeno poco prima della dimissione. Non dobbiamo dimenticare che a ogni bambino alla dimissione viene programmato un elettrocardiogramma a circa un mese di vita che viene eseguito presso la nostra cardiologia pediatrica che ha l'obiettivo di escludere la sindrome del cutilungo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.